Nel dicembre del 29, tutto il mondo tecnologico andò in tilt. BAM! Luci spent e oscurità. E questo è tutto, il Medioevo. Ora governano le tribù, il continente, l'Europa. Spargendo sangue per la supremazia. Il mondo là fuori non è il nostro. Credevamo di poter vivere in pace per sempre. Non importa che succede o quanto li diriamo, saremo sempre uniti. Ma ci sbagliavamo. Che cos'è? Non dovrà mai cadere nelle mani sbagliate. Ti cade un cubo proprio ai piedi? E tu non lo prendi? Resta qui e cerca il cubo. Il resto viene con noi. Dove li avete portati? Dove? Non li rivedrai mai più. È finita. La mia famiglia è là fuori da qualche parte. Salta su se vuoi salvarti. C'è modo di uscire da qui? Tu sei di mia proprietà, Kian. Il mio giocattolo. Voglio essere libero. Solo la morte libera noi. Farei di tutto per tirarli fuori di lì. Anche se questo ti costerà la vita. In Europa è in arrivo una minaccia. La fermeremo. Già. Molte volte occorre un'azione orrenda per riportare sulla strada giusta il corso della storia. No! Tu sei pronto? Neanche io. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!